Però il mio è un appello. Smettetela di favorire i gestori privati, smettetela di favorire le persone che mettete in quei gestori privati, perché lo sappiamo, persino i membri del Governo erano all'interno di gestori privati nel CDA, per esempio Maria Elena Boschi, e finisco, Presidente, iniziate a favorire i cittadini per una volta. Questo è veramente un appello. Voi non capite che cosa state facendo. Spero che non lo capiate, perché altrimenti siete complici. Grazie, Presidente. La ringrazio. Così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno, comunico che con lettera pervenuta in data 17 marzo 2016 il deputato Sebastiano Barbanti, già iscritto al gruppo parlamentare misto, ha dichiarato di aderire al gruppo parlamentare Partito Democratico. La presidenza di tale gruppo, con lettera pervenuta in pari data, ha comunicato di aver accolto la richiesta. Adesso ci sono degli interventi di fine seduta. Il Presidente Baldelli. Prego. La ringrazio, Presidente Di Maio. Io intervengo per ricordare un fatto accaduto quasi 14 anni fa. È il 19 marzo del 2002. De sera, Presidente, siamo a Bologna, alla stazione di Bologna. Un uomo scende dal treno che ferma a Bologna e che arriva da Modena. A Modena insegna, presso la facoltà di economia. Da qualche parte alla stazione di Bologna c'è la sua bicicletta, la slega, la inforca. Si avvia verso casa, non prima di aver telefonato a casa per avvertire che stava arrivando. Sotto casa sua, ad aspettarlo, ci sono due uomini. Quando si avvicina al numero 14 di via Valdonica, queste persone si avvicinano a lui, indossano dei caschi in tre garali e gli sparano sei colpi di pistola. È sera, sono quasi le 20. Quest'uomo morirà qualche minuto più tardi tra le braccia degli operatori del 118. Quest'uomo, Presidente, si chiamava Marco Biaggi. E la pistola con cui è stato ucciso è la stessa con cui tre anni prima veniva ucciso a Roma, Massimo D'Antona. Marco Biaggi è l'ultima vittima di una lunga serie di persone uccise dal terrorismo di matrice comunista in questo Paese. Non soltanto Massimo D'Antona, che ho testa ricordato, Ezio Tarantelli, Walter Tobagi e tanti altri. Io credo, Presidente, che quando si mescola il fanatismo ideologico e oggi purtroppo anche quello religioso col germe della violenza, ci si trova di fronte a fatti e a tragedie che puntano a minare i principi base della nostra convivenza democratica, il confronto, il dibattito e il dialogo. E credo, Presidente, che, visto che domani sarà il quattordicesimo anniversario dell'ormicidio di Marco Biaggi, non sarebbe stato bello, sarebbe stato dignitoso per quest'Aula lasciar passare questo anniversario senza un ricordo, visto che nell'altro ramo del Senato hanno pensato di fare una commemorazione ufficiale. Credo che sia giusto, sia doveroso lasciare agli atti di questa seduta e di questa Assemblea, in occasione di questo anniversario, il ricordo della storia di Marco Biaggi e di tanti come lui, morti, uccisi da una mano vigliacca del terrorismo italiano di matrice comunista, per aver avuto il coraggio delle proprie idee. Grazie, Presidente. Grazie, Presidente Baldelli. E ovviamente la Presidenza si associa al suo ricordo e al ricordo, quindi, di Marco Biaggi. Voleva, prego. La ringrazio, Presidente, per essersi associato. Aggiungo un'altra ragione per cui avevo chiesto la parola per fine seduta, per sollecitare, attraverso di lei, Presidente, da parte del Governo. La risposta a una interpellanza che ho presentato sulla vicenda dei maxi conguagli dell'energia elettrica, che dovrebbe far seguito a un impegno preso di fronte a questa Assemblea da parte del Governo ormai cinque mesi fa, e ad altri atti di sindacato ispettivo. Mi riferisco a un'interrogazione a risposta orale con cui si chiede conto di quanti siano i cittadini.